Quello che è successo in Sardegna è molto grave. La prima cosa da dire è che i controlli non sono stati fatti, cioè i controlli vengono fatti all'inizio e non alla fine, quando risulta che c'è una legge addirittura del 97, mi pare, che indica che questi controlli devono essere fatti all'inizio e alla fine di tutto il percorso. È un rischio molto grosso perché mette veramente in pericolo i lavoratori dell'azienda, i cittadini di Cremona, stavano per creare problema anche in Sardegna. Per fortuna, voglio dire, in Sardegna, a Portovesme, si sono accorti di quello che è successo. Quindi voglio dire un invito assolutamente da sottolineare in maniera molto forte che i controlli devono essere fatti sempre e regolarmente, all'inizio e alla fine. Il cesio 137 è molto pericoloso, gira e quindi voglio dire i cittadini, tutti i cittadini, devono essere garantiti. Il documento creato da queste due realtà, quindi da Legambiente Lombardia e da Isde Medici per l'Ambiente, non riguarda semplicemente quello che è successo, l'incidente, ma va a sottolineare tutta un'altra serie di questioni che ci sono e qualche volta ci dimentichiamo. Il deposito Rottami rimane lì vicino alle case. Questo deposito deve essere un deposito in una struttura chiusa e quello, voglio dire, è una richiesta che è già stata fatta varie volte. La situazione rimane ancora quella. La discarica a Crotta d'Adda, che è lì, questa montagna, basta un colpo di vento e quello che esce si sposta di qua e di là. D'altra parte ricordiamo che non sono le uniche discariche di arvedi in questa realtà tra Cremona e il territorio.